SIGEP 2023 e siamo allo stand di DWG De Vecchi con Mario Conti, buongiorno. Buongiorno. Allora, iniziamo parlando ovviamente della fiera, c'è una bella affluenza, quindi vorrei sapere che cosa presentate qui e soprattutto anche che progetti avete per il nuovo anno. Bene, è una bella fiera, effettivamente tornata alla fiera pre-Covid e presentiamo diversi prodotti. Noi facciamo produzione di componenti per macchine da caffè, qui presentiamo diversi articoli nuovi. In particolare presentiamo dei prodotti che servono per estrarre il caffè in modo un po' diverso da quello a cui noi, soprattutto italiani, siamo abituati, cioè dell'espresso. Presentiamo dei portafiltri per fare un caffè lungo, un caffè pure over, come viene detto in gergo, ma utilizzando la macchina del caffè espresso. E questo è un prototipo, è un prodotto che lanciamo qui, qui vogliamo raccogliere dal pubblico e dai nostri clienti e dai baristi soprattutto, delle prime impressioni e questo è un prodotto. Lanciamo anche al SIGEP quest'anno un portafiltro per invece realizzare gli infusi direttamente con la macchina del caffè, quindi un portafiltro per te e per i fusi, oltre che naturalmente tutta la parte di ricambistica, che è quella che ci contraddistingue da tanti anni, quindi componenti per macchina da caffè espresso. Ottimo, quindi un'offerta molto ricca. So anche che siete stati silver sponsor del campionato italiano baristi qua alla fiera, giusto? Esatto, per la prima volta noi siamo stati sponsor del campionato italiano baristi, abbiamo realizzato tra l'altro questo volantino dove abbiamo riportato il disegno di un barista e nel nostro stand abbiamo messo invece una donna barista, perché naturalmente sempre più donne si affacciano al mondo del bar e della ristorazione. Abbiamo voluto sponsorizzarlo perché vogliamo essere ancora più vicini al mondo del bar, del barista, non sono i nostri clienti diretti perché noi vendiamo i prodotti ai canali professionali piuttosto che ai costrui di macchina a caffè, ma sono i nostri clienti diretti, alla fine sono quelli che utilizzano i nostri prodotti e quindi vogliamo essere più vicini a loro per recepire da loro quali sono le loro necessità e le loro esigenze dal punto di vista delle attrezzature, quelle che poi noi andremo a realizzare e a produrre. Ottimo, allora complimenti per la sponsorizzazione e in bocca al lupo per il nuovo anno con tutti questi progetti. Grazie.